Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Alan, sei d'accordo? Non arriva? Su Piano Internazionale non credo che siano influenti perché nessuno pensa che il governo di Draghi sta per cadere prima del 2023. Invece a livello del G7, per esempio, amici che fanno scelpa, mi hanno spiegato quando Mario Draghi viene a incontrare altri libri del G7, in privato loro dicono mi dispiace che hai difficoltà con quei filo putegnani che fanno parte della tua maggioranza, caro Mario. E lui dice che si può fare, facciamo il nostro meglio e andiamo avanti. La realtà è questo, che noi siamo all'inizio di un periodo di fibrillazione all'interno della maggioranza che ci porterà alla instabilità politica prima, durante e dopo il voto del 2023, indebolerà la politica estera italiana, a un certo punto può paralizzare tutto verso fine anno, ma bisogna vedere Giuseppe Conte, Matteo Salvini e pure Silvio a questo punto come politici che stanno cercando di raccattare qualche volto per gli amministrativi a giugno o posizionarsi per le prossime politiche. Stefano Feltri, lo chiedo a te, a parte...